L'apparenza delle cose, film del 2021 uscito proprio oggi sulla piattaforma streaming Netflix che ci racconta di questa coppia che si trasferisce in questa casa di campagna accompagnata da questa popolazione molto particolare. Infatti noteremo che ci sono varie incongruenze e anche vari problemi, devo dire. Di cui la famiglia si rende conto, tra cui una presenza paranormale in casa e degli strani atteggiamenti. Parto dicendo che il film mi è piaciuto tantissimo, so che c'è gente a cui non è piaciuto, ma a me questo film ha fatto impazzire, mi è piaciuto veramente molto. Allora, c'è una molto brava e bellissima Amanda Seyfried che in questo film ha un ruolo molto particolare. Allora, partiamo parlando di lati negativi che secondo me non sono moltissimi. Ovvero, il fatto che ad un certo punto sembra copia all'inverosimile Shining, nel senso che è uguale. E poi diciamo alcune tecniche della trama che non è che mi abbiano fatto veramente impazzire. Però a me è piaciuto tanto e poi diciamo il finale, quindi parlo meglio della parte spoiler, e poi diciamo che ci sono anche lati molto positivi, come il marito, il personaggio del marito, e anche gli altri personaggi, perché per una volta in un horror medio, distribuito su Netflix, non ti approfondiscono solo i primi due personaggi, i protagonisti, demonisti, ma anche i personaggi, nelle circostanze, io adoro questo tipo. E infatti il film è tratto da un libro, e sembra veramente un libro. Io ho avuto il piacere di sentire vari capitoli, avvicinarsi l'uno dopo l'altro. A me questa cosa ha fatto impazzire, mi è piaciuta tanto. Infatti io adoro molto spesso i libri di Stephen King, soprattutto quelli che ci parlano, sono proprio una narrativa che ti fa dire guarda, adesso ti parlo di questo personaggio, ti parlo anche di quest'altro, e te ne parlo anche di questo, anche se è il quindicesimo personaggio di secondo. Poi sì, effettivamente a metà film la capisci abbastanza la trama, però diciamo che la fine del film è l'inizio, e diciamo che veramente comunque è fatto bene. Altro difetto di effetti speciali, gli effetti speciali di questo film sono terribili. Non si vedono tanto, ma quando si vedono, quando si vedono ragazzi, quello è un problema gravissimo, che me l'ha fatto calare tanto. L'interpretazione del marito è stata molto ben fatta, e anche varie location del film, non è che si concentri, va a classi, a classi, ragazzi, per farvi capire le aspettative che io avevo riguardo a questo film, erano raso terra, nel senso, mi aspettavo il classico film, questa famiglia di ora che si trasferisce, vede strane presenze, casomai chiama un tipo, e accade il peggio, mi ha stupito tanto, perché sono accadute varie cose, i cittadini diventano tutti importanti uno dopo l'altro, capitano vari avvenimenti, e man mano comincia ad importarti anche della vita quotidiana di questi protagonisti, protagonisti con i quali riesci ad empatizzare, quindi non è che non ti freghi nulla di loro, diciamo. E quindi concludo questa parte, è uno spoiler molto breve, perché ho più cose di spoiler da dire, dando a questo film un 7. Per ora è il top del 2021, ovviamente non usciranno i migliori, probabilmente. Nel senso che abbiamo ancora 8 mesi davanti, no, 7 mesi diciamo, abbiamo 7 mesi davanti ragazzi, alziamo un pochino le aspettative, e vediamo come ci sorprenderà. Intanto un punto per Netflix. E adesso ragazzi, se non avete visto il film vi consiglio di andarvene, ma prima di tutto iscrivetevi, attivate la campanella, e noi ci vediamo al prossimo video. Tra l'altro ragazzi, prima eravamo a 500 iscritti, e di colpo, adesso siamo a 487, rimediamo. E allora, come ho detto, il finale non ci viene molto spiegato, arriva la gente che capisce che è stato lui ad uccidere la protagonista, se non sbaglio, Catherine si chiama. E allora, nell'inizio del film, vediamo il padre scappare con la bambina, dietro a una casa in fiamme, cosa che può tragarci abbastanza in inganno, ed infatti è proprio questo il trucco, il misfatto del film, il voler trarti in inganno. Ok, capisco, allora, il finale non mi è piaciuto, diciamo, gli ultimi 20 secondi, perché sono me che tipo, la classica cosa è, adesso ci avete riunito, vabbè, senza farti capire veramente quasi nulla, però veramente il film mi è piaciuto tanto, so che tanta gente questo film lo odierava, per la prima volta mi schiero contro le masse che distruggeranno questo film e dico che a me è piaciuto tanto, è un gran bel film e sinceramente per me merita qualche riconoscimento, rispetto alla media di film horror che escono mensilmente, questo vale, a voglia se vale ragazzi. Altri spoiler da fare, a me è piaciuto l'ascesa del marito in questo stato di rabbia, è uno shining più aperto, è uno shining ambientato in un paesino della campagna, come possiamo vedere, abbiamo, poi c'è questa peculiarità che non sono quelle che avete notato molti, Anna Seyfried è una attrice che odia quando c'è troppa gente attorno a lei, infatti lei vive proprio in una casa di campagna e infatti le scene in cui c'è lei non sono mai veramente piene tranne quella nella face, sembra veramente una serie di capitoli, una serie di episodi fatta veramente bene e quindi io dico che a me questo film è piaciuto tanto. Niente ragazzi, il video è finito e arriviamo ai 500.